La Universal Pictures presenta il nuovo grande film di Ang Lee, il regista di banchetto di nozze, il ragione e sentimento. Jake, rimani dove sei, ci sarà da combattere. Nella terra di nessuno, non combatti per un ideale. Cristo, mi hanno fattuto il mignolo! Combatti per i tuoi amici, per la tua famiglia. Io sono cresciuto qui, questa è la mia gente. Sei virgine? Ho ucciso 15 uomini. Sì, ma hai mai fatto l'amore con una donna, prenatore? Sì, ma hai mai fatto. Sì, ma hai mai fatto.